Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Probabilmente mi state sentendo con una voce un po' stizzita perché sì, sono davvero infastidito e ora vi spiegherò anche il perché. Il titolo del video non so ancora quale sarà ma cercherò di farvi intuire l'argomento. Signori miei, la teoria finale che avevo promesso nel video di ieri della Crazy Lock non la porterò. Ma perché? Per il semplice fatto che qualche furbone, qualche furbone perché non voglio utilizzare parole, parolacce perché poi alla fine dopo faccio passo per quello che è incazzato, che è vero però vabbè dettagli, qualche furbone ha pensato bene a di pubblicare degli screen spoiler della trama su 4chan che è il sito nel quale diciamo ci vanno tutti gli appassionati per vedere i vari leak grazie Samsung di merda. E questi geniacci che sono riusciti, probabilmente accando qualcosa, a ottenere il gioco in anticipo e qui un applauso sincero alla Game Freak che non è in grado neanche di tenere nascosto il cazzo, sono riusciti a ottenere il gioco in anteprima. E non è che se lo giocano per i cazzi loro, magari registrando i video per poi caricarli il 23 novembre per fare le visual, potessi farla io una roba del genere, caspita signori miei, che gioia. Invece no, cosa pensano di fare? Pubblicano screen che riguardano la trama, screen spoiler ad altissimo spoiler sul sito 4chan e fin qui coglioni loro. Quello che mi fa incazzare è che su YouTube, sulla community italiana ma anche sulle altre, la gente stia iniziando a postare questi screen con tanto di titolo spoiler, copertina spoiler per fare le visual. Questo cosa comporta signori miei? Comporta che io adesso sul mio account di YouTube devo entrare con un altro account, se no nelle mie liste dei consigliati appaiono tutti i video spoiler di Pokémon Sole e Luna. Prima cosa, io non posso praticamente più accedere a YouTube con l'account di Creepy Stories perché altrimenti cosa succede? Succede che mi becco uno spoiler sulla trama di Sole e Luna. Già ne ho beccato uno abbastanza importante che sono riuscito ad evitare con un riflesso chiudendo gli occhi. Questa situazione qua è insostenibile perché è l'8 novembre, è l'8 novembre, il gioco esce il 23 novembre, io siccome sono una persona normale il gioco lo tengo il 23 novembre. Giocherò il gioco il 23 novembre, poniamo caso che lo finisco in una settimana se è corto, io per un mese non posso entrare su YouTube perché altrimenti ce l'ho nel culo. Cioè vi sembra normale come cosa? E fossi solo io il problema, dite vabbè ok, chissà quante persone come me sono in questa stessa situazione, chissà quante persone vedendo che ci sono spoiler non entrano su YouTube e probabilmente non vedono il mio episodio della Crazy Lock che di spoiler non ha nulla. Cioè questa cosa qua che gli YouTuber stanno mettendo degli screen non solo è da deficienti e da sfruttatori per fare visual ma è anche nucivo per tutti gli altri, è anche egoistico perché io che di spoiler non ne faccio, almeno non faccio spoiler sulla trama, ogni tanto sì mi è capitato di fare qualche spoiler mettendo in miniatura dei Pokémon ma signori miei finché si tratta di Pokémon, finché si tratta dei mostriciattoli ci può anche stare lo spoiler, il problema è quando mi spoileri la trama del gioco, quella che io devo vivere, questo non va bene. Io che di spoiler così non ne faccio ce l'ho nel culo, tu invece che fai lo stronzo e metti gli spoiler in miniatura ti fai le big visual, bello, bello. Cioè pensate a quante persone non possono entrare su YouTube perché altrimenti si beccano gli spoiler e magari non possono passarsi il loro pomeriggio seduti sul letto a navigare su YouTube senza beccarsi lo spoiler della vita su Pokémon sole e luna. Cioè è una cosa scandalosa signori, mi hai fatemelo dire, è scandalosa, cioè è un complesso di scandalo, è scandaloso che la Game Freak non sappia frenare gli hacker, primo, è scandaloso che della gente si metta a fare spoiler su 4chan, due, è assurdamente scandaloso che ci siano degli YouTuber che si rovinino, questi si rovinano la trama per fare visual. Cioè io vi dico solo questo. Pensate quanto uno può essere messo male rovinarsi un gioco per fare 3000 visualizzazioni in più. Io sinceramente non ho parole su sta cosa. Ora siccome il video non vuole essere lunghissimo voglio fare un appello a tutta questa gente. Non fate i coglioni, non fatelo perché state rovinando tutto. State rovinando voi stessi perché di sicuro la gente si arrabbia. State rovinando noi altri YouTuber che sicuramente ci rimetteremo. State rovinando il gioco perché il gioco lo rovinate se spoilerate la trama. State rovinando tutto quanto. Quindi non fate i coglioni. Lo dico anche per voi. Che tanto poi so che nessuno mi ascolterà e soprattutto che non ci saranno YouTuber in particolare che vedranno sto video a parte quelli con cui ci parlo. Però signori miei, io veramente non so cosa fare. Avevo bisogno di fare questo video sfogo per parlarne perché sinceramente non riuscivo a tenermi tutto dentro. Ah e piccola nota finale. Ci sarà probabilmente anche della gente qua in Italia che avrà la brillantissima idea di portare la serie prima dell'uscita ufficiale del gioco. E poi ci lamentiamo che i giochi da noi escono dopo. Chissà perché escono dopo. Forse perché noi italiani, noi europei siamo sempre coglioni che andiamo a rompere i day one che non possiamo rompere. Forse.